Grazie Presidente, intanto parto rispondendo al Presidente Decorato, insomma sì sicuramente sono stravaganti, abbiamo probabilmente elettorati diversi, però io ho apprezzato molto quando lei faceva scenette stravaganti in Consiglio Comunale, insomma l'opposizione a volte deve fare il suo ruolo, quindi io partirei però facendo un passo indietro, no però partirei facendo, beh lei con internet e lo streaming mi sa che è arrivato un po' lungo, comunque il concetto è questo, allora ricordiamoci perché si è arrivati a questo punto, io fossi in voi prima di fare una scenetta sullo streaming, mi renderei conto che qua ci stanno praticamente scavalcando, quindi anche i consiglieri della maggioranza in questo momento dovrebbero sentirsi defraudati del loro ruolo, depauperati, scegliete un po' voi, perché quella mozione a cui noi facciamo riferimento e che la consigliera Carcano ha menzionato, non è stata votata dal Movimento 5 Stelle che è stravagante, è stata approvata all'unanimità, quindi nel momento in cui viene dato dal Consiglio regionale che è l'organo sovrano un indirizzo politico e la giunta va in un'altra direzione, la nostra riflessione è da un'eco opposizione probabilmente, probabilmente come ci comportiamo? Cosa possiamo fare noi che abbiamo un ruolo, che vogliamo cercare di far valere quello che è stato deciso in quest'Aula? Allora, è una riflessione più ampia quella che stiamo facendo, c'è chiarissima la differenza tra organo legislativo ed esecutivo, c'è chiarissima, il problema è che se l'esecutivo prende una direzione che va contro quello che l'organo consigliare che dovrebbe essere sovrano ha preso, cosa facciamo? Cioè, scusi, io giusto per ricordarvelo, il Presidente del Consiglio regionale in questa sala siede più in alto rispetto al Presidente della giunta e all'intera giunta che il nostro malgrado è rappresentato da pochi assessori che ringrazio di essere qua, proprio perché sta a significare anche in maniera figurativa che il Consiglio è sovrano, allora quando ci passano sopra noi vogliamo capire cosa dobbiamo fare, non è un deliberato obiettivo, non è una questione di essere neofiti, noi siamo qua a fare opposizione, se prendiamo una decisione qua e gli altri fanno quel cavolo che vogliono, scusi, ma noi non siamo d'accordo, non siamo d'accordo, è legittimo? È legittimo? I consiglieri regionali hanno un ruolo di controllo, è legittimo? No, perché gli ultimi 18 anni che evidentemente questo organo di controllo non ha funzionato tanto e probabilmente ha detto vabbè sì dammi quel ruolo, mi dimentico di qualcos'altro, abbiamo visto come sono finite le legislature, allora vogliamo cambiare, noi siamo stati mandati qui con un mandato elettorale che è diverso da quello degli altri e io sono qua a rappresentare questo mandato, le richieste stravaganti le posso accettare, la diretta streaming può essere una cosa discrezionale, quindi apprezzo che ognuno abbia la sua visione, posso anche condividere l'idea che la giunta abbia bisogno di operare a porte chiuse, posso accettarlo, ma noi non siamo andati lì tutti i venerdì a sentire la giunta, noi siamo andati lì in un caso specifico dove sapevamo che la giunta andava in una direzione diversa dal Consiglio, non siamo pazzi, non siamo stravaganti, vogliamo soltanto far rispettare quello che fino ad oggi probabilmente è sempre stato preso con leggerezza, a noi non ci interessa fare la mozione per uscire sui giornali, a noi interessa far passare una mozione perché cambi qualcosa e mi spiace noi siamo venuti qua con un mandato di questo tipo, criticate i nostri elettori per l'amor del cielo, legittimo da parte vostra, io mi sono sempre domandato a certe persone come fanno a votare condannati per l'amor di Dio, è legittimo che ognuno di noi abbia faccia delle valutazioni diverse, però scusate, noi siamo stati cacciati da degli uffici, nel momento in cui chiediamo quale è la norma che ci obbliga ad uscire, il segretario generale che dovrebbe essere il ruolo apicale come dirigente non sa neanche il regolamento e prende più di 200 mila euro all'anno, ma scusate, ma dov'è il cambiamento, dov'è la Lombardia che ho in testa, la Lombardia nuova? Cioè scusate, ma ci prendiamo in giro? Qui bisogna allargare un attimo la valutazione, possiamo giudicare stravagante la mozione, ma da dove arriva questa mozione? Lo vogliamo ricordare? Vogliamo prenderla in considerazione cosa? Cioè per noi questa è una mancanza totale di rispetto nei confronti del Consiglio regionale e questo se permettete noi da consiglieri regionali non lo tolleriamo, noi ci siamo candidati qua perché vogliamo ridare valore alla politica, vogliamo dare valore ai politici e non vogliamo assolutamente farle diventare brutte persone, dato che in questo momento le persone all'esterno prendono anche noi in questo modo, ci considerano tali, quindi non siamo masochisti noi, però riteniamo che se siamo qua con un mandato e se il Consiglio ha preso una decisione, non è tollerabile che gli altri facciano quello che vogliono, perché allora cosa stiamo qui a fare? Solo a prendere 8 mila euro? Allora facciamo questa riflessione, siamo qua soltanto a prendersi e portare a casa i soldi? Allora diciamolo, guardi sì, devo passare qua 8 ore, qua rompermi le scatole, prendo 8 mila euro, ne vale la pena. Va bene, allora diciamo questo, io apprezzo l'onestà intellettuale in questa affermazione se arriva da qualcuno. Invece no, noi facciamo i grandi discorsoni, riempiamo paginate i giornali e poi alla fine è sempre colpa degli altri. Cacchio, io vado ovunque a incontri dove sembra sempre che la colpa sia di qualcun altro, come se questo paese non è mai stato governato da nessuno, come se questa regione non è mai stata governata da nessuno. E che cacchio, scusate, ma ci prendiamo in giro? Cioè io di essere preso in giro non mi va, non mi va, non mi va. Io parlo benissimo, italiano corrente, ma le pare parole me le tirano fuori. Sto cercando anche di essere molto educato, perché il mio elettorato vorrebbe che io probabilmente vi dicessi molto peggio. Perciò io lo lascio fuori, cerco di essere educato, dato che oggi sono qua, ma se mi mancate di rispetto come ruolo istituzionale io non lo accetto. Non lo accetto. Veniamo qua a sentire, ah le altre ci sono un buco, ah ma chissà chi è stato, eh sì la governance, chissà chi la scelta. Cioè sempre questa scena, sempre che siamo arrivati da un altro pianeta. Noi non lo tolleriamo, poi potete giudicare il nostro operato, potete giudicare le nostre richieste stravaganti. Resta il fatto che i cittadini quell'opera non la vogliono in quel modo, la giunta andava in un'altra direzione e noi da consiglieri regionali in opposizione vogliamo far valere le nostre ragioni. Fine. Poi criticateci pure, tanto ci criticate e poi tutti ci copiate dalle foto in aula, dai video online, dalle infografiche, dagli argomenti di... allora va bene, continuiamo così. Chi disprezza compra in fin dei conti. Quindi va bene, vi ringrazio.